a Cagliari-Pirri e la sede periferica di via Cabras, in attesa che entro il mese di novembre 2016 terminino i lavori di sistemazione del tetto della sede centrale di via Sant'Eusebio. Contemporaneamente l'Istituto Tecnico Commerciale utilizzerà una sede centrale in via Lecciusa ed una sede in zona periferica sita anch'essa, come quella del liceo in via Cabras. I disagi per gli alunni del liceo FOIS saranno comunque limitati, avendo essi a disposizione il servizio di busnavetta gratuito, che garantisce, negli orari e per il numero di studenti indicati dalla dirigente scolastica, il collegamento da Pazza Matteotti a via Cabras. Grazie. Grazie a lei. Il deputato Pili, a facoltà di dichiarare, se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. Grazie, Presidente. Non posso che essere totalmente insoddisfatto, perché il Governo, per voce del sottosegretario, ma per emanazione diretta dell'Ufficio Scolastico Regionale, dà una risposta che appartiene alla logica del lavamani di coloro che non hanno la capacità di assumersi le responsabilità e tantomeno di raccontare le proprie competenze da una parte e i fatti reali di come si sono svolti su questa annosa vicenda. Verrebbe da dire altro che buona scuola, se non si riesce, da marzo, quando già si sapeva all'incremento scolastico del liceo artistico, voice of voice, la pianificazione corretta dell'utilizzazione degli stabili scolastici. Aggiungo, non si può dire che la competenza è della provincia e nel contempo questo Governo è lo sponsor principale della cancellazione di quell'ente intermedio e la confusione, la mancata attuazione di una politica attenta su quel versante la dice lunga sulla responsabilità politica del Governo. E aggiungo, dovrebbe essere l'elemento cardine dell'ufficio scolastico regionale quello di contemperare, di mettere insieme le esigenze didattiche di sviluppo, di crescita, di regolare organizzazione didattica con l'elemento cardine dell'edilizia scolastica. Ma com'è possibile che già dal primo marzo si sapeva che il liceo artistico voice of voice avrebbe avuto quel tipo di esigenze e si è atteso 48 ore prima per consentire alla provincia con un ridicolo e vergognoso messaggio whatsapp di comunicare al dirigente scolastico che l'istituto non avrebbe avuto le aule che aveva già disponibili lo scorso anno. Bene avrebbe fatto l'ufficio scolastico regionale a dire che ci sono state interferenze politiche per togliere all'artistico quelle classi, per utilizzare il sottobosco della politica, per condizionare, anche come è stato fatto in questa occasione, un elemento cardine che è la continuità didattica. Ma di quale istituto stiamo parlando? Stiamo parlando di un istituto artistico che ha nella cultura, nella crescita, nell'abita dove deve svolgere la propria attività didattica, l'elemento cardine stessa della sua azione educativa e istruttiva. È evidente che nel momento in cui il Ministero, che ha la competenza di vigilanza su tutto quello che capita negli istituti e in particolar modo su quelli artistici perché ne ha una competenza diretta, è assurdo pensare che si possa spostare l'insegnamento, la didattica fuori alla periferia estrema della città che è stata eletta dallo stesso Ministro della Cultura, città della cultura. E quindi è evidente, è evidente, città della cultura italiana, è evidente che nel momento in cui si fa un atto così contrario alla logica, al buonsenso, alla costruzione di una didattica corretta, si mette davanti a tutto, altri interessi. L'artistico aveva già al Martini le classi e le aule sufficienti per contemperare questa divisione in tre istituti, anch'essa davvero inaccettabile. Ma si dimenticano le prerogative specialistiche di questo istituto e si dimentica che in questo istituto c'è una quantità di bambini, di allievi che hanno difficoltà sotto ogni punto di vista e che avevano necessità di essere maggiormente attenzionati da parte dell'istituzione scolastica. Cosa che il dirigente scolastico regionale non solo non ha fatto in questa occasione, ma ha reiteratamente coperto, così come si evince dalla risposta che il Governo dà, copre e continua a coprire questa azione che è stata messa sostanzialmente invece in dispregio del diritto di chi sapeva sin dall'inizio, perché gli alunni, i docenti e i genitori sapevano sin dall'inizio che avrebbero avuto l'accorpamento nel centro della città e quindi hanno fatto la scelta anche didattica di iscrizione dei propri figli su quell'istituto perché vi era quella dotazione. Tutto questo non è stato fatto e il Governo omette quel compito di vigilanza e anzi scarica le stesse province che questo Governo ha voluto cancellare, lasciando nel degrado totale la programmazione scolastica che in questa occasione diventa assolutamente inaccettabile. La mia preghiera è che il Governo si faccia attore di fronte a questa situazione per intervenire, per garantire al liceo artistico ciò che gli è dovuto, né più né meno. E questa è la richiesta che evidentemente non ha trovato fino ad oggi nessuna risposta. Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 32537 del deputato Pili e numero 32538 dei deputati Murgia e Pili, concernente iniziative per garantire un adeguato organico di insegnanti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Cagliari. Le interrogazioni vertendo sullo stesso argomento verranno svolte congiuntamente. Il sottosegretario per l'istruzione Toccafondi ha facoltà di rispondere. Grazie, Presidente. Sul merito della questione, l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, sentito al riguardo, ha chiarito che non si è verificata alcuna situazione che vedrebbe scoperti un consistente numero di posti e che i dirigenti scolastici sono stati...